ciao sono paolo zanò e oggi ti voglio parlare del ritmo di samba in tre quarti il samba in tre quarti è il primo approccio per suonare questo ritmo in tempi dispari apparentemente sembra molto difficile soprattutto se analizziamo come viene scritto e percepito il basso procede su ogni quarto mentre gli accordi fanno ritmo regolare di un ottavo puntato poi anche pensare una quartina sovrapposta a un tre quarti però c'è un modo molto più semplice di pensare questo ritmo semplicemente basta togliere l'ultimo quarto del ritmo di marcia rancho il pattern della marcia rancho si esegue in due battute di due quarti adesso basta togliere l'ultimo quarto un due tre un due tre se ti è piaciuto fai così lasciami un commento fammi sapere cosa ne pensi grazie e vamo l'abbiamo 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 l'abbiamo